Come coordinatore degli insegnanti di educazione fisica sul territorio di Pavia, quale riscontro avete avuto con un'attività come l'Orienteering e qual è stato il grado di partecipazione delle scuole? Come ogni anno sono già 15 anni che facciamo questo tipo di attività, abbiamo una collaborazione con la provincia, sono anni che si tengono corsi di aggiornamento per gli insegnanti e dalle due scuole che avevano fatto questi giochi 15 anni fa, ora siamo a 15 scuole superiori e a 10 scuole medie. Abbiamo avuto una partecipazione di poco più di 300 studenti e quindi siamo molto contenti. Ogni anno questo numero continua ad aumentare e quindi non riusciamo a trovare quasi i pullman per farli venire su, perché sono così tanti che bisogna proprio così organizzare bene. Ad un'insegnante di educazione fisica abbiamo chiesto quali siano i motivi per proporre l'Orienteering a scuola. Dunque, innanzitutto non è solo un'attività che riguarda la capacità di correre, quindi è bello avvicinare i ragazzi anche che non sono magari dei campioni nello sport, è bello avvicinarli all'attività all'aria aperta, comunque un'attività sportiva, dove però possono utilizzare anche la loro bella testa. Quindi questo per me è fondamentale. Non tutti sono campioni nella corsa, nei giochi di squadra così, ma possono dimostrare di essere in gamba anche su altre cose questi ragazzi. Qual è la valenza educativa dell'Orienteering? Allora, la valenza educativa, secondo me l'Orienteering ha in sé dei valori che sono poco comuni in molti altri sport. Adolescere ha adottato l'Orienteering non tanto come attività agonistica, ma soprattutto come attività formativa ed educativa per i nostri ragazzi. Si parla, si va dal contatto con la natura, l'Orienteering è uno sport che si fa in un ambiente naturale, a volte neanche nei centri storici, ma soprattutto in boschi come quello di Pietragavina, dove oggi hanno corso i ragazzi, quindi c'è il contatto con la natura, il rispetto della natura, il fair play, il giocare, il correre per esserci e non per vincere. Un contatto un po' con la disciplina sportiva un po' diciamo semplice, accontentandosi anche dei posti di ritrovo, delle location che non sono a 5 stelle. Questo appunto è quello che differenzia secondo me l'Orienteering da molti altri sport. Adolescere appunto, spinto dall'amministrazione provinciale della provincia di Pavia, ha adottato l'Orienteering prima di tutto come strumento per lavorare nelle nostre stage, nelle nostre settimane verdi con i ragazzi, dove vivono l'Orienteering non come attività agonistica, ma come possibilità di formazione e di crescita personale. Dopodiché nel corso degli anni, all'interno del movimento orientistico che si è creato nella provincia di Pavia, una serie di persone hanno deciso di trasformare questa passione in una vera attività agonistica ed è nato quindi quello che noi chiamiamo lo scombussolato team, che è la sezione agonistica della polisportiva adolescere di Voghera e dal 2007 partecipiamo alle competizioni a livello lombardo e nazionale. Abbiamo anche un settore giovanile e l'attività agonistica però non preclude, anzi non fa venire meno i valori che comunque ho elencato prima che ha in sé la disciplina dell'Orienteering. L'Orienteering è un'attività per chi e per quale età? Beh, un'altra nota positiva dell'Orienteering è il fatto che è un'attività sportiva anche agonistica per tutte le età. Si può iniziare, solitamente si inizia all'età di 10 anni per gioco, le prime categorie agonistiche cominciano dai 12, 13, 14 anni e il bello è che si può arrivare anche a correre a 70, 75 anni. Logicamente ci sono categorie per ogni fascia d'età e categorie per ogni livello di preparazione agonistica. C'è chi lo fa come vera attività agonistica, vera e propria, quindi cercando di conseguire un preciso risultato. C'è chi invece la domenica si vuole fare una passeggiata in mezzo al bosco, anche camminando, con una cartina in mano e c'è possibilità per farlo. È anche una delle bellezze. Nella stessa gara partecipa il campione italiano e l'amatore che vuole farsi una scampagnata, diciamo. Per chi volesse saperne di più? Come riferimento nella provincia di Pavia c'è soltanto una società che è la nostra, che è la Polisportiva Adolescere Sezione Orienteering, nome di battaglia Scombussolato Team. Si può cercare, si arriva direttamente dal sito della fondazione Adolescere www.adolescere.org oppure mettendo su un motore di ricerca Scombussolato Team viene fuori il link del nostro blog. La manifestazione si è conclusa nel primo pomeriggio. La pioggia ha accompagnato la fase finale della gara e le premiazioni, senza nulla togliere la bella atmosfera della giornata. Grazie per la visione!